gentili telespettatori buona giornata giorgia meloni scatenatissima contro tutti le vedete nei video di questa mattina ne ha per tutti giorgia meloni dalla sua festa di atreio 2023 la meloni dice voglio ringraziare matteo salvini antonio taiani per 14 mesi di lavoro insieme che sono anche 14 mesi di amicizia condivisione lealtà il centrodestra esiste da 30 anni non per un incidente della storia ma per una condivisione di valori e vogliamo mandare un ringraziamento a silvio berlusconi nel premio atreio in cui non c'è più nel primo atreio in cui non c'è più così giorgia meloni intervenendo alla kermesse di fratelli d'italia in corso a roma la premier poi si rivolge alla capa del pd la capa come a lei piace definirsi cosa dice alla capa cara elli puoi anche decidere di non partecipare ma non insultare chi ha accettato un invito qui perché ha avuto il coraggio che a voi difetta e giorgia meloni continua eccitando anche ecce bombo facciamo dice una citazione di sinistra afferma ironizzando su chi non accetta l'invito alla kermesse di fratelli d'italia e chi invece si lamenta di non essere stato invitato mi ha ricordato quella scena memorabile di nanni moretti mi si nota di più se vengo e sto in disparte o se non vengo e sì nel film di nanni moretti ecce bombo questa frase è diventata famosa mi si nota di più se vengo e sto in disparte o se non vengo fa più rumore la mia presenza o il fatto che io dica di no questo è questo è il punto e parliamoci chiaro chi è che si è lamentato si è lamentato conte giuseppe conte dice prima mi hanno invitato e poi hanno fatto finta di niente non hanno non mi hanno più detto niente quindi intelligentemente conte voleva andare lì a fare lo splendido sarebbe andato lì a dire a dire le sue cose le sue esporre le sue idee solo che non l'hanno più invitato perché perché il suo tipo di opposizione non è un'opposizione corretta è un'opposizione fatta in un modo sbagliato in un modo sbagliato basata principalmente sulle bugie e sul cambiare posizione continuamente e questo probabilmente ha ha fatto sì che l'invito sfumasse quindi si è lamentato di non essere stato invitato mentre la schlein era stata invitata e non e non si è voluta presentare non si è voluta presentare per mancanza di coraggio ovviamente e ha fatto una sua piccola chermessa alternativa roba da proprio così insomma dai ha fatto la sua contro a trei una roba proprio infantile ovviamente proprio gli stessi giorni fa una piccola riunione dove dice quello che vuole fare in europa diceva piuttosto che pensare all'europa pensa all'italia lascia perdere l'europa l'europa ma pensa all'italia e vabbè e così nel film di nanni moretti mi si nota di più se vengo e sto in disparte o se non vengo quindi la valutazione se la meloni quando ho sentito la schlein rifiutare mi è venuto in mente il film di nanni moretti e sì poi lei ha risposto lo vedremo lo vedremo nel prossimo video qual è la risposta che è appena arrivata proprio di di elena contro giorgia meloni noto che sia la schlein sia conte sono sempre più incattiviti perché probabilmente pensavano che questo governo andasse a schiantarsi in pochi mesi lo spread li punirà faranno la fine di berlusconi che dovrà che 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 dette le dimissioni saranno isolati in europa gli investitori non ci saranno più sarà un disastro economico verranno cacciati in poco tempo e noi torneremo a governare come al solito con un bel governo tecnico di quattro anni magari chiameranno di nuovo draghi torneremo al governo torneremo a impadronirci della rai eccetera eccetera però è passato un anno e il governo è ancora lì bello solido senza problemi di sorta un governo con il suo elettorato che è pure aumentato eppure aumentato per esempio fratelli d'italia dal 25 al 30 per cento c'è un 5 per cento in più poi bisogna capire i sondaggi c'è chi dice 30 chi 29 chi 28 chi 27 ci sono sondaggi che tirano acqua al proprio mulino e così Conte e Schlein sono sempre più incattiviti verso questa destra sono sempre più incattiviti perché il governo va avanti fa le sue cose con i pochi soldi a disposizione e loro sono costretti a continuare a raccontare bugie al proprio elettorato perché non sanno come contrastare questo governo e allora ogni giorno sono bugie a grappolo che vengono lanciate sul paese e credo che anche loro si siano stancati perché capite che ogni giorno devono inventarsi una bugia nuova e ripetere le bugie vecchie anche ricordandosi quello che hanno detto perché voi sapete che quando racconti le bugie in quanto tali te le devi anche segnare perché poi il giorno dopo magari non ti ricordi più che tipo di bugia hai detto e non essendo cose reali non puoi dire ma sì adesso certo che me lo ricordo una cosa del genere perché è una bugia e non te la ricordi perché non è un fatto reale mi capite anche che le bugie finiscono poi non sai più che cavolo dire quindi hanno anche questo nervosismo crescente dato dal fatto che si esauriscono anche le balle e loro poi continuando a ripetere queste bugie di solito più ripeti una bugia più c'è la possibilità che diventi una mezza verità però ci sono persone che smontano queste bugie giorno dopo giorno per esempio come nel mio canale queste bugie le smontiamo giorno dopo giorno e questo dà fastidio grazie a tutti e arrivederci a presto